22 e 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 22 adesso io volevo farci buttare la visione grande fratello, se facciamo dei video poi montano eccoci qua tutti e tre tutti e tre siamo gli improta, siamo gli improta gli ultimi gli ultimi, sono ancora piccolini una cosa autentici Siamo il passaggio alla nuova generazione Siamo una bella famiglia Siamo non belli Belli proprio E ce lo possiamo permettere Dico qualcosa ai tuoi figli Doviamo Siamo la mia vita E fare qualsiasi cosa per voi Anche se è quello che ho fatto fino adesso Vorrei continuarlo a fare Permettendo la mia salute Ma la salute poi Ne mandiamo domani Guardate qua si è messa il fascione Il cinturone di cuoio Si è anche frucata No niente Ne abbiamo fatta due mesi C'è stata una bella festa C'è stata una dimostrazione di affetto Grandissimo Grandissimo veramente Che solo le persone napoletane Possono dare tutto questo affetto E poi A voi giovani Di andare avanti E di volervi sempre bene Ricordatevi che alle spalle Avete sempre La mamma La mamma Quando si andrà la mamma Rimeremo io qui No ma non pensavo Ricordatevi che c'è sempre qualcosa Qualcuno là Che vi sta pensando Sempre 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 Che posso dire sono felice Perché Gianni merita questo ed altro E speriamo che andiamo sempre avanti più forti di prima Vai Gianni Vai 22 Possiamo già parlare Grande Apicella Il mio Il mio amico Gianni Grande pizzaiolo numero uno Veramente Non A parole Grande pizza fritta Birra E' un grande Patrone di casa Ok ragazzi Ma cosa cosa dire Più del 22 Niente Niente Numero uno Si mangia benissimo E' stupendo Si parla poco Si parla poco Perfetto Si parla poco Perfetto Al centro di Napoli Ma domani Più tra che soldi Un lavoro speciale Dal nipote del 22 Un bacione Il meglio Che cosa dire Dopo tanti sacrifici Dopo tanti anni Soprattutto E' lui solo Per capire Dopo gli ultimi due mesi Belli tosti Siamo riusciti Usa un problema E' stati Siamo riusciti A realizzare Questo nostro Sogno obiettivo Perché è anche Un sogno Un obiettivo mio Questo lo posso dire Ne vado fiero Al 22 E a te Federico Tantissimi auguri Alla nostra pizzeria 22 Bocca all'uomo Per un grande proseguo Auguro tanta felicità Per quest'anno Per quest'anno solo Vabbè E' sempre E' del buonissimo Pizzer è un mondo sensibile Ciao E' un gemello Auguri a E' un gemello Pizza 22 Al 22 Palato 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 E' compassionale E' ma che cosa E poi dopo Non lo so Facciamo Ah io ho registrato Sì stavo registrando Ancora Tutte cose Adesso 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 Che ne pensi Di questa Ma già possiamo Sì vuoi parlare Grande pizzeria Inizio di una nuova era Possiamo dirlo Bocca all'uomo Io sono sempre disponibile Qualsiasi giorno Tranne quando io conosco Telecamera Sì Clicchetti in camera E dici quello che vuoi Allora Lei è Daniela Sarnone La nostra Progettista Ristratrice Antipatica Tutto Grande amicizia Lei è la Palata Ciao La ragazza del Palato Che abbiamo visto prima E niente Sono gli amici Del cuore Del cuore Ragazzi Aguri di cuore Veramente Vogliamo bene Un bacio a Carmenzita Bocca al lupo Aguri al 22 In questa nuova apertura Sono felicissima Per questa nuova avventura Perché te lo meriti tutto E vabbè ce lo meritiamo tutta Perché anche io faccio parte di te Sono contenta Ringrazio tutti Speriamo di dormire la notte Dormiremo sicuramente Sogni tranquilli Grazie a tutti i presenti Un mega augurio a noi A noi Sempre a noi Sempre così Come vada sempre Ho pochissime parole da dire Tanti passi 22 Tanto ormai la cucina Ce l'abbiamo Tre fornelli Tre quattro fornelli Siamo pieni Gianni che dire Grazie grazie per tutto Un bacca al lupo A te A noi Siamo pronti Siamo carichi Due mesi di ferie Sono bastate Siamo pronti a lavorare Quando gioca ai Napoli Nicola e Alessandro Cambio Ce la vediamo noi Bocca al lupo Gianni Aguri Aguri per tutto Grazie No dovete fare Buonasera Buonasera a lei Giovanotto Volevo fare Tante auguri a Giovanni Proto alla 22 Alla pizzeria Perché lui nel mio cuore Perché abbiamo la stessa fede E femmine Meno male che avete le femmine Siete fortunati Tutte e due Non avete Gli uomini Io in tutti i casi Vorrei fare Gli auguri a Gianni Principalmente Perché grazie ai miei prodotti Che Sto andando alla grande Insieme ai miei prodotti Di altissima qualità Quindi auguro Grande longevità Alla pizzeria In Prota E anche giustamente Al titolare Della pizzeria Poi per tutti i resti Ciao Per il frattempo Per tutti i dipendenti Mi auguro che Man mano li cambierà Perché nessuno è morto Va bene Ciao Un bacione E forza Napoli E forza Napoli Buonasera Ciao Ciao Vi saluto Complimenti Per questa nuova Ecco Innovazione Visione Ecco Complimenti Veramente di cuore No su 100 anni Così Poi veramente Ragazzi E la passione Vero in Amocca Ma c'è una bella pizza Sicuramente Veremo noi Ora da voi 22 Auguri Finalmente È stata riaperta La mia seconda casa Passerà Tutti i pomeriggi qua Un malavolta Dimmi Grande amico mio Giovanni 22 Sei grande Capitano Tanti auguri Che il signore Tanta bendizione Sei sempre il numero uno Grande Giovanni Grande Allora ragazzi Siamo qui Eccola Già iniziato Pizzeria il 22 Il top Presidente Quando esistono Delle radici profonde Tutto quello Che viene fuori Sarà stabile Per sempre Auguri Ciao Gianni Quello che hai creato È bellissimo Ti do un bocco al lupo E buona fortuna Ciao Un bacione E un abbraccio Forza Forza Napoli Gianni Tu sai Quello che io ti auguro Ve l'ho sempre detto Sei un grande E con tutto il mio affetto Devi essere sempre più grande Di quello che sei Mi dici tu il via Va bene? Ma sei acceso? Sono felice Ciao Gianni Ti voglio fare i miei migliori auguri E spero Di creare un bellissimo rapporto Anche con te Lo sai La mia porta è sempre aperta E qualsiasi cosa ti posso aiutare Un bacio E auguri ancora Caro Mip Questo video che stai No Si Si Vabbè 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 Comunque Ho detto tutto Dici quello che vuoi Sono felice Vabbè Il parole è tuo Dirlo Una figlia Pettacchiani Commovente Dai Ce l'abbiamo fatta Vabbè A parte tutto Sono felice Sono 6-7 anni Che ci conosciamo Però Io devo dire la verità Ho scoperto un fratello Sono felice Io ti auguro tutto Gianni Tutto il meglio Anche perché Il meglio tuo E anche per me A prescinderemo Dal meglio lavorativo Il meglio No no Il meglio Dice lui Il meglio Il meglio Non devo fare Che ci sono gli occhi Vabbè 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 Ammerava Mi hanno pensato qua fuori Io non c'entro niente Lei è Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Allora Innanzitutto lui è maleducato Perché Sta messa con la parola Allora Io brindo Al suo successo Perché lui è un grande personaggio Della pizza Un grande uomo Un grande amico E un grande socio No Del 22 Ma su altre cose Io auguro tutto il bene Perché lo voglio bene Con mio fratello Auguri a tutti Auguri a tutti Buona fortuna Sempre al top Allora Che dire al mio cognato Durargli tanto successo Fortuna E che la tua attività sia tanto ma tanto fruttante In tutti i sensi perché lo meriti al 100% E adesso Fammi che E' partito Sì è partito È partito Un burrito Da parte pure di Moel Gianni Presidente Presidente Salute la buttegna di vino Oh bello È bello Non so Montagracciano 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 Senta però Che cosa Questa videoplay Prima alla rinascente Come si chiama Videoplay No No La rinascente si chiama Boxplay No Videoplay Progambi Sì è tu Fammi Va dire Va dire Oh Lasci Lo faccio Vai 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 Ti 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 Guardi Guardi una cosa Però Però Tutto Non si Ho fatto Tale e quale Già Non 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 Grande Gianni Vela 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 Ad assaggiare la pizza Fritta Con la Cenovese Non Non B restricted Non l'ho mangiata, non l'ho mangiata Vai uno, due, tre Vai Gianni Siamo pronti Volevo fare un messaggio Per Gianni in proda Non che mio cugino Nel cugnato Fratello, cugnato Cugnato, fratello Più di un fratello Volevo augurarti tutto il bene possibile Perché è veramente una persona Lo meriti, Gianni tanto E niente Tanti auguri E che il futuro Esaudisca tutti i tuoi desideri Ti voglio bene Gianni 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 Video play Ciao Gianni Ciao Gianni La cosa brutta 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 Amore piace Ciao Gianni Ehi scassato Vai amore vai Dici grande Gianni Grande Grande Carmela No no Bravissima Grande E' tutto bellissimo E' tutto bellissimo Ma c'è una festa bellissima Ciao Una festa qui Senza chersi E' bellissima Ti auguriamo il meglio Perché tu mi era per te Tu e' Carmelo Comordati Bravi 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 Ciao frate Dove si vede? Dove sei? Dove sei? Dobbiamo guardare qui? Dobbiamo guardare qui? Questa è la camera Un augurio speciale a questo stop spettacolare Dai dai scondiamo Visto che non avevamo capito Mi stiamo facendo tanti applausi Tanti applausi E tanti auguri Non battiamo sempre le maniche Se no veniamo ripresi Volevo riscriverti una frase Per l'augurio dell'innovazione della tua pizzeria Come ho fatto nel 95 con Federico Improta Grande Penso che anche tu sei all'altezza di questa pizzeria Giovanni Improta Sei grande Ti voglio bene Ma la pizzerò con luce Che non sapete quando si registrava? Basta battere le mani Si ma che non sapete quando si registrava? Batti le mani E inizia la mia vita E dice come A mio da Andrea A mio da Andrea ha avviato con te No no ma ci batti le mani Ma che sta? Fai Maggi ho battuto le mani Non andate con flash Come si registrava? Come si registrava? Auguri Zenny auguri al nostro staff per un felice inizio un inizio un inizio di di grande ristrutturazione nei migliori dei modi un abbraccio, un bacio stiamo sempre qui un bacio questo può f*** questo è un bravo ragazzo questi qua perché è un bravo ragazzo perché è un bravo ragazzo perché è un bravo ragazzo e nessuno lo connega ok pronta l'hai fatto per la grana questo sì questo sì questo sì ma come ti sei relax mi mamma di essere tu sciacca alle sei e mezza vai giù brindiamo al nostro titolare una buona pizza e poi? una quella che dobbiamo vincere è una fatica e mi ha fatto quanto vuoi? 100 anni ciao ciao volevo ringraziarti per il pensiero che ha avuto per il mio figlio sei una persona eccezionale meritate il meglio dalla vita io sarò sempre con voi se voi lo vorrete ovviamente e niente mi hai spiazzato su quella torta ti ringrazio davvero col cuore perché hai pensato anche a lui perché fondamentalmente per nove mesi per nove mesi ha fatto parte del 22 anche lui e sarò sempre con voi sempre fedele al 22 sempre questa non la toglierò più giuro grazie in bocca al lupo a te a tutti noi a la tua famiglia a tutti grazie 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 a tutti.